Saranno 265 le persone che il 27 dicembre si sottoporranno alla prima delle vaccinazioni anti-coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Darne notizia il governatore Massimiliano Fedriga e il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi al termine di riunioni operative svoltesi nella sede della protezione civile per definire i dettagli tecnici dell'operazione che interesserà dapprima il personale sanitario della regione. Quella che prenderà il via il 27 dicembre hanno detto Fedriga e Riccardi alla campagna di vaccinazione così come definita dal governo e dal commissario Arcuri. Le prime 265 dosi saranno inoculate nell'arco di 48 72 ore. Le dosi verranno somministrate in una sede che verrà resa nota nei prossimi giorni. A curare la somministrazione sarà il personale sanitario che verrà formato dall'Istituto Superiore di Sanità. Dal giorno successivo la struttura commissariale dovrebbe mettere a disposizione della regione ulteriori dosi con le quali si andrà ad estendere la vaccinazione del personale già definito come target a livello nazionale, ossia coloro che operano all'interno del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia e nelle strutture residenziali per anziani, nonché gli ospiti di queste ultime. In questo secondo caso, aggiungono Fedriga e Riccardi, l'operazione verrà compiuta nelle sedi già individuate dalla regione. Anche in questo caso la somministrazione sarà garantita da una squadra composta da 5 persone sotto osservazione medica. Nelle prossime ore prenderà infine il via l'operazione con la quale verranno comunicate le modalità di prenotazione della vaccinazione per le persone appartenenti alle categorie individuate.